Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentornati a casa nostra e a casa vostra. Cosa? Continuiamo, procediamo. Che cos'è questo ragione? Questo qui è la bara. Per chi? Per te. E la stiamo costruendo perché non si sa mai, noi andiamo oltre. Questa è la bara della macchina. Che macchina? La Ferrari, però l'andriamo ad usare per la Dodge, perché la Ferrari è ancora deliziale. Questa non è la bara, è la teca, è l'esposizione della Ferrari F40 che ancora sta là, tutta da montare. Allora, dato che abbiamo finito la Dodge, ci mettiamo la Dodge. Esatto. Per adesso. Per adesso, solo per adesso. Dopodiché troveremo una teca adeguata alla Dodge. Quando la Ferrari sarà pronta, che prenderà la sua teca, quell'altra loggerà. Sloggerà. Sloggerà. Ok. Aspetta, ci sono dei pezzi certo. Ok. Questi sono i pezzi di vetro. No, sarà in metallo. Sì, sarà in metallo, sarà in plastica. Sarà in ferraglia. No, in plastica. Guarda che carina. Perché non hai vista la tarca? No, non l'hai vista. E ora l'hai vista? Non l'ho vista. Certo, non c'è la Ferrari ancora. Certo fai vedere anche i nostri amici da casa. No, fai la vedere di sempre, sono lunghe. Questa è la tarcchetta. La tarcchetta della Ferrari. L'incisione. Era un bravo ragazzo. Della Ferrari F40 competizione. Scala 1 a 8, ragazzi. Ecco qua. Era un bravo ragazzo. Se la mettiamo da parte, poi vediamo. Tanto quando moriamo siamo in città. Questa che è legno o è plastica? No, è legno. Legno. Generalmente si apre e si viene usata. Vai. Ecco. Dove si attacca? C'è già la forzetta? No, non so, dovete parlare. La forzetta si metterà qua. Sì, sì. Cioè, si metterà qua. Vedete? Che pomodoro che c'è. Lugno. Sì, è proprio bella. Cioè, la base mi piace. Bella. Nera. Nero opaca. Nero opaca. Nero opaca. Dovevo lasciare le dita, amore. Mi raccomando. Ecco, io ce l'ho lasciata. Ci sono le descrizioni. Ah, ecco, la vedi? Ecco. Ah, vedi dove l'ho messa la cosa? Ah, l'interno. Qui l'ho messa, qui all'angolino. Ah, e allora metti ce l'ha? Ecco. Ah, è finita. Forse l'ho tutta la serata. Rilassante. Rilassante, sì. Oddio. Sono in glassex. Platti. Cosa? Aspetta, aspetta. Ma hai fulminato col sguardo? No, aspetta, prima di aprire. Oddio. Prima di aprire, eh. Tutti i pezzi. Mettiti i guanti? No. Ah, ok. Perché dopo me tocca pulirle i ditati che lasciamo, capito? Eh. Ma quei guanti poi non si avvitano le diti. No. Ah. Quindi? Vabbè, tira fuori. E me l'hai tolto. Non fa niente, tira fuori. Oh, santa base. Aspetta, no, io volevo un attimo capirci qualcosa, amica. Ma amore, ma quelli corti vanno su quelli corti, quello è lungo va su quello lungo, eh. Sì, sì. Ecco. E che cavolo. Bravo, amore. E che cavolo. Sì, ma visto che non sono tutti uguali. Che vuol dire? Sì, certo, sono tutti uguali. Questi fori che stanno più vicino al mondo e questi fori che stanno più, come vanno? Eh, certo, eh, lì vanno, questi qua vicino vanno in alto, questi vanno in basso. Certo. Ah, vedi, vedi, tu l'arresti messo così, come capita. No, ma poi guarda, ma intanto li tiro fuori, no? Invece questo fa così. Eh, intanto tiriamoli fuori. Vai, tiriamo fuori. Ma intanto le hai presi le altre viti cadute per terra? No. Beh. Guarda, ora lo prendiamo. Guarda qua, si è stancoso. Che? Che l'è rotta. Che cosa? Una vide. No. Io so che cos'è quello. Mh. Tantiratori. Aspettate, aspettate. Cosa? Tenta non piegarla troppo. No. Via. Allora. Aspetta le istruzioni. Guarda un po' sulle istruzioni come vanno. Allora, il buco sopra va al centro. Va in alto, voglio dire. Oddio. Ecco qua. Cosa? Cioè questa va così? Eh sì, perché c'è solo un buco. Al centro qui sotto non c'è il buco. Quindi c'è solamente qua sopra quindi va per forza così. Va così. Questa è il vita. Giusto? Giusto. Aspetta. Aspetta. Chi no? Ci ho non pensato. Eh dai. Ti arrego io. Tu stai calmo. Fai le cose con calma. No. Perché tu fai altre corsa? No, no. Assolutamente. Ragazzi. Ecco qua. E due. Chi vuoi? Caccia di video? No, no, però adesso l'appoggio su, cioè l'appoggio. Vabbè, ho capito, l'initi ma non sti così. Ok, adesso quello dietro. Ok, poi pure sotto. Certo. Pure sotto, ragazzi. Dai, passamelo pure a me. No, perché non lo senti? Non lo senti. Non lo senti. Non lo senti. Non lo senti, non lo senti. Non lo senti. Non lo senti. non ho capito cambia vite non prendo il cacciavite le notte no vuoi il cacciavite? si però non so se quello va bene perché questo è il cacciavite è un po' più grande visto? imprevisti? ma hai visto? ti l'avevo detto ti è grazie bravo ho visto un po' di cacciavite vabbè io il fatto è fatto bravo molto carina è molto 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 carina piace? si 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 qui ci metterei il marsupio si 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 ci metterei con le tartarughe un l'acquatico un l'acquatico è quello che ci metteresti pure un serpente no allora preferisci i crisetti non la carina di crisetti ok poi stringiamo l'altro allora poi il l'altro passo a lungo è lì no come no? si 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 prendi lo prendi giù davvero aspetta 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 perché sono due ragazzi ah sono due aspetta allora questo è il tetto perché c'è fuori due tre parti questo è quello che va qua perfetto vai via ora tieni due le due a me due a te due a me che cosa? stai ricascare un'altra volta? stai ricascare un'altra volta ah no stai qua madonna ma che c'hai? che c'ho? che c'ho? e ma mi ricorda ok ok stringendo qua e stringendo ti serve il cancevite no? no eh ah si ok ok Grazie. Capisco invece che servono questi fuori qua sopra. Ah questi dove servono? Per quando lo chiusi. Ok, però scusa mio amore, ma ora dobbiamo mettere la Ferrari? Come la mettiamo dentro? Sì, però qui abbiamo messo la teca così. Ecco qui. La tiriamo su? La ritiriamo su? Ma si può mettere quelle così? No. A me le fa arrivare lo scrocchio, poi le rompi. Sì. Guarda che sta calcando. Qui? La mettiamo così. Così? La c'è. Un po' l'attaccata al vetro. Ancora c'è un po' di spazio però. Oddio. Però c'è lei una pulita che la vedo un po' sporca. Non so come. Tipo... Perché c'era lo scotch. Lo scotch è sporca. Vabbè questa poi le diamo una pulita. E la tocchiamo... Va bene. Che facciamo? Prendiamo la bestia lì sopra? Sì. Ragazzi, aspettate, prendo un attimo la macchina e facciamo una prova. Se c'entra... Se c'entra... Ce la fai da solo, sì? Sì. Oddio. Sportello? Spingilo un po'. Mamma mia. Quazzo è molto peso. Vabbè ci sta, no? Si sta, si sta. Forse non va capire lo sportello che è poco stretto stretto. Sì. Vabbè, tu una volta che sta lì non è che devi chiudere. No, no, no. Lì, non chiudere. C'è quello questo attaccato con l'attac. Eh, a che dito me l'ho attaccato? Eh, no. Quindi mozza dovrebbe... Per... E che cavolo stare lì da... Tre giorni? Vogliamo sigillarla? Allora, appoggiamola solo sopra. Aiutami. Che la devo tirare fuori e poi la devo uscitare. D'accordo? Sì, sì, ho capito Adol, perché a me mi vuole lucidare. Ah, perché? Non so pelata, perché mi lucidi la pelata. Non ti vuole lucidare la pelata. Certo. Ecco qua. E le vittime? Cioè, tu stavi dicendo i buchi qui a che cosa servono? Eh, prima sì. Ah, sei scemo! Ho visto il copepio e ho capito, mi torno. Ragazzi, mettete un bel like se vi piace, iscrivetevi al canale e commentate. E commentate il risultato. Molto, molto carina. Va bene. Mi piace. Dove lo mettiamo poi questa? Lì, su Alipresia. Hai salutato i nostri amici? Sì, sì. Ci vediamo alla prossima. Allora, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettetevi un bel pollicello in su, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. E ci vediamo la prossima volta con una nuova puntata di Benvenuti a casa nostra. Ciao! Ciao! Ciao!